Si avvicinava alle vittime con modi garbati, poi con un pretesto scambiava qualche parola ed infine le abbracciava, nel tentativo di sottrarre rapidamente con destrezza collane e bracciali. Adesso, per la donna, una 36enne domiciliata a Milano con precedenti specifici alle spalle, sono scattate le manette in flagranza per tentato furto con strappo. La donna, negli ultimi giorni, aveva derubato alcuni anziani, sempre con lo stesso modus operandi. Ieri mattina, gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo si sono così appostati nei pressi di un supermercato di via Salvi Castellucci. Sotto gli occhi attenti degli investigatori si è consumato l'ennesimo furto, sempre con la stessa tecnica, ma questa volta con un finale ben diverso da quelli precedenti. La donna, come sempre, si è avvicinata con fare gentile ad un 81enne a retina appena uscita dal supermercato ed improvvisamente le ha gettato le mani al collo in un abbraccio prolungato, chiaramente finalizzato a sottrarre la collana indossata nonostante i tentativi di respingimento della vittima. Decisivo l'intervento degli agenti che hanno bloccato ed arrestato la 36enne, molto probabilmente supportata da un complice che gli investigatori stanno adesso cercando di individuare ed identificare. Pochi minuti dopo l'intervento, tra l'altro, sul numero unico d'emergenza 112 è arrivata la richiesta d'aiuto di un'altra signora ultra settantenne che si è accorta, dopo un'ora dai fatti, di aver subito il furto della propria collana nella vicina porta Trento Trieste. La vittima, convocata in questura per sporgere denuncia, ha riconosciuto senza ombra di dubbio l'autrice del furto nella donna arrestata. La 36enne, al termine del rito per direttissima, è stata condannata alla pena di sei anni di reclusione. Nei suoi confronti, infine, il questore ha disposto un foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel comune Aretino per tre anni ed ha avviato le procedure anche per l'allontanamento dal territorio nazionale.